Ecco perché questa season è stata la peggior season di sempre E se questo è l'argomento del video di oggi ne parleremo in maniera un po' XD ovviamente ragazzi Qui semplicemente mentre giochiamo vi dico perché io e tanti altri content creators pensiamo che questa season abbia fatto quasi letteralmente cacare Mentre torniamo a Greasy Groove ovviamente ragazzi vi ricordo che se volete supportare il canale potete utilizzare il codice CALLARI nello shop e iscrivervi anche a questo secondo canale Detto questo la season 2 perché ha fatto cacare? Come prima cosa c'è da dire che è iniziata benissimo è stato uno dei migliori inizi di sempre ma di solito tutte le season iniziano bene Però questa qui ha avuto la modalità zero build che sto giocando anche adesso che a me sinceramente piace abbastanza Che è stata una novità assurda ragazzi nessuno se lo aspettava che forse d'avesse il coraggio di rimuovere le build dal proprio gioco Visto che è il punto centrale e comunque questa idea per quanto rischiosa ha funzionato Un sacco di gente inizialmente è tornata, ha iniziato a giocare, ha fatto tornei tipo Tiffy, tipo Ninja che ci giocava già abbastanza Però tipo Nick Merckx, insomma un bel po' di gente è tornata o addirittura ha iniziato a giocare a Fortnite Quindi all'inizio, ottima idea Il problema di quale è stato più o meno che dopo un po' questa season è diventata molto secca, si dice in gergo tecnico Dry, soprattutto dal punto di vista di idee e video perché si facciamo il video sulla zero build, ok Facciamo il video sui meatbusters, ok ci sta, video glitch ci può stare Dicevo, dopo i primi video che si fanno ogni season, le idee hanno iniziato a scarseggiare perché semplicemente l'epic ha iniziato a non aggiungere nulla Le armi fanno cacare questa season, fanno veramente schifo, ci sono un sacco di armi, ne hanno rimesse un sacco, questo è anche il problema Non hanno aggiunto armi nuove, ne hanno rimesse, una frega, una frega di armi hanno rimesso E la maggior parte fanno cacare, sono mitragliette spamone, come potete vedere questo fight l'ho fatto sparando completamente a minza Come si suol dire ragazzi Un attimo sto chiuso in un angolo perché c'è il programma di editing ancora aperto, il compito sta morendo Ok dovrebbe soffrire bene il compito adesso, ma che c***o frega, stavamo parlando del fatto che le armi fanno cacare Soprattutto i pump che comunque sono le armi fondamentali di Fortnite, noi lo vogliamo dire ma quando ci sono le mitragliette di solito il gioco fa cacare ragazzi Devo dire però che il nuovo pompa è stato comunque molto bello, il pompa ha un colpo singolo il ranger, il ranger Però oltre a quello in quanto ad armi, niente, porca p***o, dove c***o è uscito questo figlio di Questo è il problema che è grandissimo, siamo nella unità zero build che se qualcuno ti pusha sei finito Che è proprio finito, se appena ditta qualcuno è primo, è finita Vabbè quindi in quanto ad armi possiamo concludere che sì, ne hanno riaggiunte molte però nessuno è interessante da poterci fare un video Ad esempio da essere eccitati o dire c***o, questa cosa è nuova, sono tutti quanti armi vecchie Cioè sono condito della riga ad esempio, ero condito delle shield bubble che le hanno fatte durate per due giorni però, non so perché Però va bene il resto, armi pessime soprattutto, volevo dire le armi col mirino, le MK7, il bamba, mi fanno cacare A me le armi col mirino secondo me non c'entrano niente sul forte, sono bruttissime, non dovrebbero esistere In quanto ad esempio ad altre cose ho raggiunto l'elicottero, mi è piaciuto molto come ritorno Il busto della battaglia guidato, bellissimo Il cane armato, lo odiamo un po' tutti no? È divertente però, era davvero tanto P Il lanciarazzi con la incudine, come c***o si chiama? Fa schifo, quella arma fa cacare C'è un zed contro i veicoli che è il punto fondamentale perché ci mette 60 anni ad attaccare il veicolo E poi comunque esce il messaggio scritto giganormico Ti stanno per sparare e esci dalla macchina, quindi solamente se sei cero broleso Rieci a far pittare da quel lanciarazzi Contro le persone è inutile perché spara stortissimo Tipo Matip nella finale di Champions l'altro giorno Hanno aggiunto il parkour, perché sono appena dimenticato che questa cosa Ehm, rieccomi qua C'è stato un piccolo service da fare nella home E abbiamo aggiunto un canale inglese questo adesso Stavo parlando del parkour e di tutte le nuove meccaniche bellissime Un po' buggate ogni tanto, un bel po' buggate Però comunque mi sono piaciute Ottima aggiunta forse la cosa migliore che hanno fatto in questo studio insieme alla modalità zero build Anzi, molto meglio perché la modalità zero build è diventata molto secca come ho detto Ancora di più della modalità normale Davvero l'hanno cacata così, non ci hanno pensato per niente Io avrei sinceramente separato un pochino le modalità ancora di più Tipo armi diverse Ad esempio, mettere che gli oggetti della modalità zero build sono più resistenti Perché se tipo voglio nascondermi io con questo pezzo di legno E questo pezzo di legno viene buttuto giù però con un colpo di assalto Vedete Non serve a un c***o Oh mio Dio Tu che c***o ci fai qua? Che ha spiegato il corpo sul campo? No, no L'ho morto Cristo ti... Io l'ho odio Non riesco a fare più di due partite quando la modalità zero build Stavo scherzando È molto divertente però se ci devo parlare non sono molto concentrato Faccio schifo, ancora peggio Tra l'altro il gioco dice che sono arabo adesso Quindi continuiamo a parlare di armi Ad esempio il fatto che ci sono una marea di armi Rende alcune armi introvabili Tipo il Barrett Io l'avrò trovato sei volte in tutta la season E sempre nell'isola dello spawn Però tornando al discorso che avevo lasciato prima Abbiamo un po' coperto le cose buone Le cose mediocre che hanno fatto in questa season Però la cosa peggiore è che in quanto le idee per i video Che sono comunque il punto fondamentale di Fortnite Perché il gioco va bene Se va bene anche su YouTube, su TikTok L'epic non si è messa a prendere di impegno Non ha aggiunto cose interessanti Infatti se avete tutti i canali YouTube La maggior parte hanno fatto meno visual Hanno fatto meno video Sembravano più scazzati nel video Ad esempio io ho fatto un video lo scorso Che finalmente ha andato bene Dove faccio i 22 oggetti più orari di Fortnite Che se volete vedere è qui Sperate di aver fatto bene stavolta È andato molto bene Mi sono divertito molto di più a farlo Perché è stata un'idea nuova Che appunto se mi porta visual Io sono più contento a fare un video Se invece devo fare un video Dove ad esempio faccio una challenge impossibile Che poi mi fa la metà della metà delle visual Di quello che fa di solito A me già fa cacare questa season Io dico no Adesso spero nell'evento L'evento sembra molto molto interessante C'è un lama Comunque si può prendere qualcosa di buono da questa Perché a me come oggetto Mi sono piaciute le modifiche delle meccaniche Il fatto è che comunque Ci hanno provato ad aggiornare il gioco Con le armi Però è stata un'idea di mezzo secondo me Preferisco... È strano dire Perché comunque su Forza c'è stato quasi tutto Cioè non ci sono molte idee nuove Tipo gli NPC sono state un'aggiunta fantastica In season 5 Quale è stata proprio un'aggiunta Che ha portato un sacco di idee per i video Cioè quanta gente si mette a fare Finta di fare gli NPC adesso dopo 60 anni E comunque fanno ancora visualmente i video Perché sono comunque divertenti Io non le faccio più Perché ne hanno fatte 60.000 di quei video Mi sono un po' rotto le palle E credo anche voi di vederli Allora per quanto riguarda il resto Essere quasi assente a fare un video Di 22 agenti più ore di Forza Vuol dire che il gioco è proprio secco Ad esempio i video reaction Che merda Mi piace i falli perché sono semplici Sono divertenti da fare Però sono proprio di sfaticato Capito? Non ho idee Devo fare qualcosa Faccio il video reaction Madonna che botta Mamma mia che botta Che gli ho mandato sto qua E questo devo dire È uno dei punti negativi Forse l'unico punto negativo Di fare video solo su un gioco Solo su un argomento Che per quanto va bene È bellissimo Perché tutti fai il massimo delle visite Perché tutte le persone iscritte al tuo canale Sono iscritte per vedere quella roba Perché se facessi un video di FIFA Probabilmente andrebbe bene Ma sicuramente non andrebbe bene Quanto il video di Fortnite Per questo esiste questo canale Perché adesso ammazzo questo qua Ti faccio tipo 20 E faccio cacare Faccio cacare Oh buono 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 Volevo dire questo Ho sentito quanto abbia fatto cacare questa season Potentemente durante le live Che poi ho spesso di fare Perché la connessione va male Però insomma durante quelle live Io non ce la facevo più a farle Perché il gioco era una rottura di palle Sempre la stessa cosa Non innovativo Per brutta season Anche dal punto di vista di gaming comunque Perché tu magari dici Ok va male per i video Però Lascio altruinare Sono su server alabi E niente su server alabi ragazzi hanno La resistenza alle bombe Ok avendo questa ultima partita Che spero di vincere Perché sennò che video Dicevo avendo questa ultima partita Volevo allontrarmi per un secondo Dall'argomento La season fa cacare Per dirvi Ma la creativa 2.0 Quando? Cioè quando arriva? È tipo un anno Che la dicono che deve arrivare La prossima season Deve arrivare Tra un pochino Ma non arriva mai Perché secondo me Sarà una svolta Veramente veramente interessante Perché già la creativa adesso È fonte di content Assurdo Però non viene sfruttata Ancora abbastanza Secondo me Con la creativa 2.0 Sarà molto molto meglio Perché sarà ancora più creativa Appunto Ci saranno ancora Meno limiti Perché adesso Se una persona Cosa vuole fare una mappa Comunque è abbastanza complicato A fare le cute Invece parlando di mappe Questa season per esempio Ha avuto pochissimo In giornalmente la mappa Ci hanno distrutto pinnacoli E hanno fatto cadere i dirigibili Cioè questa cosa Io non la capisco mai Perché devono sempre E comunque Togliere quello che aggiungono Ogni season Cioè hai messo i dirigibili Ottima idea Perché me li fai crollare Perché me li fai crollare Dentro il mare Se il dirigibile sta qua Fammelo cadere qua Appunto Però in quanto della mappa Veramente la mappa 0 su 10 La season si può salvare Su qualcosa Ma la mappa Veramente è brutta Spero nell'evento L'evento secondo me Deve spaccare Deve fare qualcosa di pesante C'è il glitch Quella che l'acqua Appare in qualche zona Quindi magari vogliono Riallagare la mappa Spero Perché è stato veramente divertente Spero qualcosa di nuovo Ovviamente Perché le cose riciclate Fanno sempre cacare Però meglio riciclare qualcosa di buona Che fare qualcosa di nuovo Che fa cacare Tipo non fare niente Però vabbè È da epic ragazzi Siamo abituati ormai Alle season Che non cambia un cazzo Noi scatelizziamo qua Che voglio ammazzare qualcuno Ok ne abbiamo due Che stanno freddando qua Tu posso mettere Una patatona qua Madonna mia Che bidone Ma porca miseria Non intimo niente col cecco Niente 0 45 Buono Pronto? Dai non posso mettere Quel che fai È pazzo Dai va bene Va bene tutto che faccio schifo Però Porno a scanalizzare Secondo me Porca trota È salito lui da me Ok perfetto No ma vedi Dove sta zaffornato Questo è pazzo Vabbè io me ne vado Ovviamente la liscia Così posso finire Di dire un'altra cosa Che in questa sezione è mancata La mobility tipo Spider-Man A me Spider-Man è piaciuto un sacco Spider-Man è stato proprio bello Spider-Man secondo me Cioè veramente Potevano mettere Solo Spider-Man Dove cazzo Sta Non puoi parlare Dicevo una mobility Come Spider-Man Ci vuole secondo me Ad esempio Potevano lasciare Spider-Man Anche questa In vista con la collaborazione Comunque non è finita Secondo me Potevano anche mettere Una bella collab Con attacco In vista che Quella di Call of Duty Fa letteralmente E cacare E mettere il momento Tridimensionale Ci starebbe un sacco Per molestare bene Mi è piaciuta l'idea Della guerra contro le IO Del territorio Di prendere Le parti della zona Però è stata secondo me Un po' semplificata Cioè ammazza i bot Che spawn Non tanto alla fine Puoi anche non farlo Tanto comunque Ce la faranno Le i7 A battere la IO È stata un po' Moscia come guerra Secondo me Leggermente noiosa Bella idea Però fatta male Vabbè Mi ha mandato a presenza Delle cose più forti Comunque Bella la modifica Delle macchine Questa qua Spero portano Gli attachment alle armi Prossima season Così che possiamo Mettere il mirini Sulle cose Ho detto che i mirini Mi fanno cacare Però se i mirini Stanno per terra E te li trovi tu E te li scendi tu Mi piace Chi vuole il mirino Si prende il mirino Chi non lo vuole Non se lo prende E comunque ci sarebbero Meno i mirini Perché il brutto dei mirini Non è tanto che Non mi piace usare il mirino Ma è che Ti squagliano Cioè è ingiusto Troppo forte Per fortemente Il mirino Il clombo è stata una bella giunta Scossa season Questa volta L'hanno fatto crepare Non so perché Ma adesso si sta risvegliando Quindi sta tornando Mi piace No io muoio adesso E vabbè Ragazzi il video Mi sa che sta per finire Ciao a tutti Iscrivetevi Ci ho provato a fare No stop Ci ho provato Ho ammazzato Ragazzi il video Non finisce qui Attenzione Attenzione Il video continua ragazzi E rimanete sintonizzati Non aveva manco una cura Per la vita bianca Invece ce l'aveva Bravissimo ragazzi Sono full di mazzo Grazie a questo ragazzo Che ha farmato per me Ad esempio i mazzi In queste due season Non so perché Sono davvero pochi Non so se si builda di più Oppure se Secondo me invece no Mi sento proprio che Ci sono pochi mazzi sulla mappa Andrebbero bustati un pochino Mi metterei anche Gli oggetti segreti Tipo il fungo d'oro Il pesce mitico Mi sa che c'è ancora in game Al 99% c'è Per esempio il fungo d'oro Che rendono il gioco interessante Appunto ci vuoi fare un video Sul fatto che hanno aggiunto Il fungo d'oro Che hanno aggiunto quello Cioè li metti Li fai stare E poi li togli dopo un attimo Non è che li fai stare due giorni Perché Potete fare il video Di oggetti più rare di forza Sì ok Ci può stare Ma non credo L'abbiano rimossi per quello No 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 Dove sta 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 infame no? Ciò doventi Ciò doventi però è bidone E bidone Bidone è bidone Bidone è un abbo proprio Però ragazzi Mi fa malissimo lavoro Non riesca a parlare Per un cazzo Perché ho fatto questo video No 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 Mi ha amassato il bambino No non vinta un cazzo Tutto quanto lagga Mi ha amassato Mi ha amassato Mi ha amassato il bambino Sì mi ha amassato il bambino Perché può saltare sui muri Questo str... Ciao ragazzi Scrivetevi al canale